E ciao a tutti amici sono sempre io Gold e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica TechPlace Rieccoci su Echo Allora ragazzotti nello scorso episodio abbiamo fatto andare avanti delle ricerche davvero importantissime Che daranno una svolta epocale al nostro gameplay Sostanzialmente perché ci sbloccheranno la maggior parte dei blocchi diciamo avanzati Prima di iniziare però vorrei farvi vedere effettivamente quali sono le mie scorte attuali Diciamo dalle quali ho attinto per raccogliere effettivamente quei minerali Qua ragazzotti abbiamo l'oro che ancora non ho toccato Qua abbiamo parte del ferro che effettivamente ho utilizzato Come se ce n'è tantissimo io ho utilizzato diciamo la parte frontale Quella che ovviamente adesso non si vede ma che era sopra questa parte di sabbia E vi faccio vedere l'ultima parte qua Che è quella di ferro che ho utilizzato verso la fine Non l'ho raccolta tutta perché voglio tenerla effettivamente per tutte le evenienze che serviranno ovviamente più avanti Allora mentre ne ho già portato un po' Diciamo quello che potrebbe servirmi alla nostra casa barra base Alla quale stiamo tornando effettivamente Così posso dare effettivamente l'input per l'ultima ricerca Cioè la più importante che è quella dello smiting Allora fatemelo raccogliere Ok ragazzotti eccoci qua da qualche parte Probabilmente dove ho aiuto Eccolo qua Smiting skillbook Mezz'ora di libro Comunque Ovviamente dovremmo aspettare che lo faccia Ma ragazzotti abbiamo il baking E il milling Che ci impariamo subito tra parentesi Tacche le mettiamo alla nostra collezione Insieme alla nostra collezione Ok qua mettiamo i paletti Perfetto Così andiamo subito a vedere ragazzotti cosa ci hanno sbloccato Uuuuh Bellissimo ragazzotti Bellissimo Allora Vediamo subito cosa ci sblocca Pam 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 Questo qua subito ragazzotti Perché ci sblocca effettivamente la macina E il forno Cose che ci servono Livello 1 l'abbiamo già sbloccato Livello 2 Baked meat Huckleberry muffin Poi c'è il baked roast Huckleberry pie Meat pie Blablabai Comunque Andiamo ragazzotti Sul baking Tac Perfetto Mill La dobbiamo fare tipo subito Io adesso ho finito la mia scorta di pietra Quindi dovrò mettermi un po' a farmarne Ma effettivamente Abbiamo anche del tempo Che dobbiamo passare Perché manca mezz'ora Solo per lo smiting Quindi Io mi metto a farmare pietra E noi ci vediamo dopo Ok ragazzotti Allora Ho raccolto la pietra E sto andando completamente nel posto sbagliato Perché sto andando verso la casa Mentre mi devo avvicinare Alla fabbrica Allora Uuuuh Ecco qua Allora Prima di tutto Mi si è bagato il carretto E questo qua Me lo dà ancora disponibile Come utilizzabile Ma come vedete Non me lo fa Targhettare Quindi non posso effettivamente utilizzarlo Ne ho dovuto craftare un altro Che ragazzotti Sono tipo un idiota Perché dovevo mettere La roba Né in casa Né alla fabbrica Dovevo metterla Dove c'è La zona per la lavorazione Della pietra Quindi adesso altri 20 minuti Di sposta roba Da una parte All'altra Mi voglio odiare Ok ragazzotti Ce l'ho fatta Guardate la genialata Passo tutto Praticamente utilizzando Semplicemente I due inventari Oh La adoro Questa cosa La adoro Quindi Ragazzotti 20 minuti Ma ecco qua Ecco qua La nostra Macina Perfetto E con questo blocco Ragazzotti Ci si aggiunge Praticamente Una parte Di gioco Perché dovremmo Introdurre Praticamente I blocchi meccanici O almeno I primi blocchi meccanici Cioè per la prima produzione Anche se primitiva Di energia E per farlo Ragazzotti Andiamo qua Dal tavolo Della lavorazione Del legno Difficilissimo Da pronunciare E guardiamo Le due opzioni Allora Abbiamo come possibilità La waterwheel Che è semplicemente Un mulino d'acqua Oppure la windmill Che è un mulino a vento Io ragazzotti Per comodità Ora Andrei sul windmill Perché ho già visto Come si setta E perché sinceramente Mi ci fido Un po' di più Rispetto alla waterwheel Anche se Non sarebbe male Avere tipo Un mulino ad acqua Proprio lì sul fiume Dato che ce l'abbiamo vicino Comunque Metto in produzione La windmill Tipo adesso Quindi ragazzotti Mezz'ora Anche per il windmill Ma sapete cosa? Dato che voglio Proprio cambiare Alcune parti Di questa Tra parentesi Base Barra casa Direi che è il momento Di organizzare bene Alcune parti Cioè ragazzotti Voglio costruire una zona Dove fare lo storage Proprio dove mettere tutto Quindi Il cibo I materiali E così via Quindi ragazzotti Io adesso Mi costruisco Diciamo Un magazzino Sì Decisamente Bene ragazzotti Allora Questa è la struttura Del nostro magazzino Andiamo a prendere Le chest Allora Storage Perfetto Questo però Ebbè me lo mangio Che tanto Male non fa Allora Andiamo a piazzarle Ho deciso Ho deciso Che la divisione Sarà tipo Per materiale Quindi avremo Magari Tutto il legno Da una parte Tutto il cibo Da una parte E così via Però Sono appena accorto Di aver fatto Tipo una cosa Minuscola Ok Eccoci qua Questa qua Sarà la nostra Parte storage Quattro ceste Per ora E la strada Arriverà Ragazzotti Ho messo in produzione Alcuni blocchi In strada Poi ovviamente Arriverà Faccio un piccolo cambio veloce Di tutte le ceste E poi vediamo il risultato finale Ragazzotti Stavo mettendo a posto tutto Quando Mi sono accorto Che ha finito lo smiting Quindi subito Andiamo a imparare la skill E guardiamo Un po' Smiting Uuuuh Ragazzi Smelting E ce la sblocchiamo Subito Perfetto Così possiamo mettere in produzione Togliamo questa Possiamo mettere in produzione La bloomerie Cosa ragazzotti Che vado a fare subito Ok ragazzotti Blumerie in produzione Ovviamente attualmente Non c'è Energia Sapete cosa Zan 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 Utilizziamo Le Tavole Per forza Perché Ahimè È l'unica cosa che abbiamo Attualmente Probabilmente Ragazzotti Non basterà Quindi Dovrò andare a cercare Del carbone Nelle vicinanze Me ne bastano anche Soltanto due blocchi Comunque Se non erro Anche un'altra cosa Ha finito Eh si ragazzotti Perché anche La macina È stata prodotta Eccola qua Wow Vediamo subito Il blocco Come si presenta Un attimo Magari mi metto Qua Probabilmente Lo farò in questa zona Eh ragazzotti Perché mi piace Proprio farci Fare un bel mulino Qua Ok Bella Allora Sostanzialmente Richiede 10 watt Ottimo Ottimo Allora Vediamo subito Cosa possiamo fare Possiamo fare La farina Possiamo fare Lo zucchero Però Utilizza Gli acolberries Quindi non Richiede Le Barbabietole Barra Rape Non mi ricordo mai Poi Cornmeal Ah Questo qua È tipo Farina Bene 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 Ragazzotti Mi piace davvero tanto Questo blocco Adesso però me lo riprendo Perché effettivamente Non ha senso lasciarlo qua Ragazzotti Tantissime cose Per il prossimo episodio Io comunque Questo episodio lo termino qua Vi ringrazio per avermi seguito Vi invito a lasciare un mi piace Un commento Dicendomi cosa ne pensate Della serie E se avete un qualsiasi tipo Di pensiero A riguardo E nulla Mi raccomando Seguitemi anche sui social Io sono Gold E noi ci vediamo al prossimo video Bye bye